Bentornati amici ed amiche di Onera, io sono Giovanni Nastasi e ho il piacere di avere con noi il nostro gradito ospite Mario Rubini, ciao Mario. Grazie Giovanni, sono onorato di questa ospitalità. Allora Mario è un dottore in scienze dell'alimentazione, ecco Mario spiegaci un po' intanto come nasci da questo punto di vista professionalmente perché ti sei avvicinato appunto al mondo dell'alimentazione e della nutrizione e poi insomma parlaci un po' di come è cambiato nel tempo il concetto proprio di alimentazione. Allora io ho iniziato sempre comunque ad essere affascinato un po' dal mondo dell'alimentazione e nutrizione perché sono stato sempre uno sportivo e quindi ho voluto sempre capire come anche l'alimentazione interagisca nelle prestazioni. Perché bisogna dirlo, l'alimentazione è strettamente legata al mondo sportivo, cioè solo lo sport senza una giusta alimentazione non si ottiene nulla insomma. Assolutamente, questo sì e diciamo tutte e due devono essere sempre bilanciati nel giusto modo, soprattutto per l'intensità dell'esercizio fisico, dello sport, anche dei sistemi energetici che si utilizzano. Quindi bisogna essere sempre coscienti di quello che si fa come attività sportiva e quindi combinarlo giustamente con l'alimentazione e con i giusti nutrienti che ti servono per soddisfare quelle esigenze. Ecco, tu hai notato che manchi proprio questa consapevolezza nelle persone? Allora questo sì perché anche i non sportivi diciamo dovrebbero avere la consapevolezza di quello che mangiano perché soprattutto in termini diciamo non solo di calorie così ma in termini proprio di macronutrienti di cui si compongono gli alimenti, dei micronutrienti anche quindi delle vitamine, dei minerali, di tutto quello che ci serve anche per stare in salute. Non c'è il bisogno di comunque estremizzare le cose o eliminare determinati alimenti per soddisfare determinate richieste dietetiche eccetera. Bisogna sempre bilanciarle. Per bilanciare queste cose bisogna solamente conoscere proprio gli alimenti e quindi avere la giusta educazione di quello che si mangia. Insomma questo è diciamo un argomento che va contro quello che è il fai da te. Cioè bisogna rivolgersi a un professionista come te per esempio. Cioè l'ideale sarebbe questo? Assolutamente. Quando uno non ha proprio la cognizione di quello che mangia e di quello che fa, fare il fai da te solo perché magari l'amico, l'amica, il cugino, la cugina fa quella determinata dietro, quella determinata cosa che è funzionato magari su di lui o su di lei, molto probabilmente su di te non funzionerà. Certo. E farà più danno di quello del previsto. Tu hai notato che in pandemia questi comportamenti siano ulteriormente peggiorati in qualche modo? Allora in pandemia assolutamente sì per vari motivi perché soprattutto perché non c'è la cognizione di quello che si mangia, soprattutto perché comunque stando poi in casa la richiesta energetica si è molto abbassata. quindi non ci siamo mossi più per andare neanche a accendere la macchina per dire. Quindi anche mangiando allo stesso modo ingrassiamo perché non spendiamo più la stessa energia. Quindi riuscire a capire questo, riuscire a avere la consapevolezza di quello che stava succedendo, poteva avere la giusta educazione alimentare, poteva anche curare questi danni. Per questo io sono sempre più per un percorso nutrizionale di educazione. Ecco infatti Mario scusa se ti interroppo, io so che tu appunto ci tieni molto a questo argomento, tu ti prefiggi proprio di dare una conoscenza oltre che preparare dei programmi personalizzati per il motivo che stavi dicendo appunto. Sì assolutamente, il mio approccio è sempre visto come una collaborazione con il cliente e quindi quello che mangia lo sceglierà solamente ed esclusivamente lui. Io sarò solamente una guida, questa mi interessa perché poi ne otterrà solamente dei risultati per tutta la vita molto più concreti perché avrà acquisito delle conoscenze che prima magari non aveva e quindi potrà gestirsi questa fantomatica dieta come la chiamiamo tutti noi in maniera assolutamente indipendente perché avrà la conoscenza già e quindi avrà capito come funziona e quali sono veramente i meccanismi che funzionano per raggiungere il suo obiettivo. Ok quindi in realtà tu poi porti unitamente diciamo a un benessere generale grazie a una dieta mirata a una maggior conoscenza di sé fondamentalmente. Esatto perché ogni cosa va sempre comunque individualizzata e cucita proprio sul soggetto perché ognuno di noi risponde in maniera totalmente differente a qualsiasi alimento e a qualsiasi nutriente eccetera anche per lo stile di vita che fa e comunque bisogna anche indirizzare le persone verso anche il miglioramento del proprio stile di vita e quindi anche inserire più attività fisica il più possibile essere più attivi soprattutto con il lavoro che c'è stato nella pandemia dello smart working questo un po' anche un po' rovinato diciamo la salute e l'estetica delle persone perché comunque il movimento diciamo che è fondamentale ed è alla base della salute tanto quanto la dieta e l'alimentazione. Allora io intanto ricordo ai nostri ascoltatori i tuoi profili social quindi facebook trovate mario come merio nutrition quindi non come mario ma come merio nutrition un po' alla base merio esatto un soprannome che fin da piccolo mi hanno affibbiato. Allora instagram invece è mariorubino tutto attaccato e mariorubino lo trovate anche come youtube e poi siccome parlavi di sport diciamolo tu hai anche gestisce una palestra giusto? Sì gestisco una palestra insieme al mio fratello che è un preparatore atletico Antonio Rubino che è laureano di scienze motorie e tutti e due abbiamo questa abbiamo aperto questa palestra si chiama il Tiger Mood a Catania sì e ci occupiamo proprio di allenare. Allora se volete diventare delle vere e proprie tigri dovete frequentare il Tiger Mood e io direi di lanciare anche un instagram non un instagram un hashtag per aumentare le visualizzazioni di questo video per chi ti vorrà venire a cercare lì nella zona dove sei appunto del catanese quindi benessere e alimentazione hashtag alimentazione benessere Catania direi che è un hashtag perfetto per intercettarti e aumentare le visualizzazioni e poi so che anche hai un profilo un sito web se lo vuoi ricordare così per i nostri ascoltatori guardare un po' di video e insomma capire di cosa stiamo parlando. Sì sì ci sono un po' tutti i miei contatti e poi comunque pubblico un po' di articoli si chiama wefixhumans.com e sì a questo un po' potete trovare diverse informazioni abbastanza interessanti. Perfetto. Mario è stato un vero piacere parlare con te e averti ospite e magari speriamo di averti in futuro con noi. Piacere mio. Salute a tutti. Benissimo dopo questa bella storia di sport alimentazione e benessere rimanete collegati perché ci sono altre chiacchierate che ci faremo molto interessanti su On Air da Giovanni Nastasi per il momento è tutto.